I progetti del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo, l'argomento su cui a Taranto, a Palazzo di Città, hanno relazionato tecnici ed esperti del settore impegnati nella valorizzazione di questo ambiente naturale che il Comune di Taranto si impegna a preservare e rilanciare. E rappresenteremo ovviamente quelli che sono i passi in avanti, che sono sicuramente volti a regolamentare sia quelli che sono gli aspetti valoriali, gli elementi naturali, la flora e la fauna del Parco Mar Piccolo, ma anche regolamentare quello che è un processo ovviamente di crescita e di riconversione economica di quella parte di Paradiso che è a pochi chilometri da qui. Un patrimonio, quello del Mar Piccolo, che nei prossimi anni verrà sempre più implementato e sempre più numerosi saranno i progetti che andranno a valorizzarlo e renderlo fruibile. Taranto è in un momento di transizione ecologica, come diciamo tutto il globo, ed è un'occasione per puntare sulla tutela della biodiversità e di un elemento naturale unico come quello della laguna del Mar Piccolo. Parliamo di tutela dei cavallucci marini, tutela degli habitat prioritari, tutela della direttiva habitat, habitat della direttiva e non solo, ma anche i miti ricoltori e tutto quello che è stato fatto è stato realizzato in questi pochi anni dalla Costituzione e che però ha contribuito ad accrescere il patrimonio di conoscenza, il patrimonio, sì, il sistema di conoscenza di questo importantissimo parco naturale.